buonasera e benvenuti al quinto webinar della serie questioni di civiltà organizzato dalla civiltà cattolica e la georgetown university questa sera parleremo di intelligenza artificiale tra cultura scientifica e umanistica io sono debora tonelli rappresentante della georgetown university a roma e vi do il benvenuto anche da parte del padre antonio spadaro direttore della civiltà cattolica entrambe le nostre istituzioni infatti collaborano sulla scia di una lunga tradizione comune infatti si tratta di istituzioni che appartengono alla compagnia di gesù in questa serie di webinar abbiamo deciso di trattare temi di attualità invitando a parlarne insieme a noi alcuni tra i massimi esperti e il tema di stasera l'intelligenza artificiale è passato in pochi decenni dall'ambito della fantascienza a quello della scienza trasformando molto velocemente la nostra quotidianità una caratteristica di questo fenomeno è la capacità di esercitare la propria influenza in ambiti molto diversi della vita umana da quello informatico a quello medico da quello religioso a quello giuridico ed etico solo per citarne alcuni gli obiettivi degli scienziati naturalmente sono molteplici tra questi c'è sicuramente anche quello di migliorare la vita umana del resto durante l'emergenza covid stiamo vedendo quanto l'intelligenza artificiale possa comunque facilitare l'intervento dei medici e degli infermieri impegnati in prima linea e anzi approfitto di questa occasione per ringraziarli per lo straordinario lavoro che stanno facendo in un contesto così particolare e nuovo ecco tuttavia l'intelligenza artificiale non può essere considerata uno strumento neutrale come tanti altri perché perché l'uso dell'intelligenza artificiale da vita a situazioni molto complesse non solo per la quantità di conoscenze che richiede per essere correttamente utilizzata ma anche per la sua capacità di rimodulare il nostro stile di vita di generare conseguenze che non sono sempre prevedibili e che non sono sempre sotto il nostro controllo persino arrivando a cambiare i criteri attraverso i quali eh decidiamo di agire in un modo piuttosto che in un altro se quindi essa non è propriamente solo uno strumento dobbiamo in qualche modo ripensare la nostra vita insieme a lei e qui si apre un orizzonte di questioni che vanno ben al di là del progresso scientifico e tecnologico eh appunto in ambito etico come dicevo prima giuridico religioso e quindi gli interrogativi sono numerosissimi e anche difficili da tessere tutti insieme cioè l'idea di rendere la ricerca scientifica congruente per esempio con le questioni etiche con le questioni relativi ai diritti con le forme pratiche di vita religiosa e quant'altro e Papa Francesco poco più di un anno fa ehm ha inviato un messaggio ai partecipanti dell'assemblea plenaria eh della Pontificia Accademia per la Vita ehm usando queste parole conviene osservare che la denominazione di intelligenza artificiale pur certamente di effetto può rischiare di essere forbiante i termini che occultano i termini occultano il fatto che gli automatismi funzionali rimangono qualitativamente distanti dalle prerogative umane del sapere e dell'agire e pertanto possono diventare socialmente pericolosi dobbiamo comprendere meglio che cosa significano in questo contesto l'intelligenza la coscienza l'emotività l'intenzionalità affettiva e l'autonomia dell'agire morale i dispositivi artificiali che simulano capacità umane in realtà sono privi di qualità umana ecco l'intelligenza artificiale sembra essere quindi un laboratorio fatto di sfide a volte insidiose ma anche di grandi opportunità e la sua evoluzione dipenderà moltissimo da come gli esseri umani affronteranno questo orizzonte tanto complesso la cui gestione compete tanto alla cultura scientifica quanto a quella umanistica do quindi il benvenuto ai nostri ospiti che presento brevemente prima di iniziare la nostra conversazione noterete come sempre per chi ci ha seguito già in altre occasioni che si tratta di profili scientifici molto diversi tra loro e l'intenzione di questi webinar non è mai quella di supportare o di argomentare un'unica tesi come se fosse un'unica voce di fatto cerchiamo invece attraverso queste conversazioni con gli esperti di far emergere i nodi delle questioni gli aspetti che più dovrebbero stimolare le nostre riflessioni soprattutto in un contesto in un dibattito come quello dell'intelligenza artificiale che tende ad essere a volte anche dispersivo per chi è meno esperto o viceversa per chi è esperto solo di alcuni settori si rischia facilmente di perdere una visione di insieme che pure è altrettanto importante il nostro primo ospite è giampiero siroli è un fisico che lavora nel campo della fisica subnucleare attualmente è computer security officer della grande collaborazione internazionale CMS al CERN di Ginevra e ricercatore presso il dipartimento di fisica e astronomia dell'università di Bologna è autore di un gran numero di articoli in questo campo su diverse riviste scientifiche internazionali ma anche molto attivo nell'ambito della divulgazione scientifica ha una grande esperienza internazionale non solo in contesti scientifici ma anche presso organizzazioni come l'ONU l'Unione di scienziati per il disarmo scusate il movimento Pugwash Conference on Science and World Affairs per il quale coordina le attività nel settore della cyber security benvenuto Gianni buona buonasera a tutti la nostra seconda ospite è Stefania Travagnin una storica delle religioni nella Cina e Taiwan moderni e lavora ora presso la School of Oriental and Africa Studies dell'Università di Londra dopo la laurea e un master in lingue e letterature orientali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e un dottorato di ricerca in studi delle religioni alla School of Oriental and Africa Studies di Londra e ha svolto molti anni di ricerca sul campo eh in particolare tra le comunità buddiste di Taiwan e della Cina continentale ed è stata visiting scholar in diverse istituzioni asiatiche come l'Accademia Sinica e la Sichuan University. Nelle sue ampie ricerche analizza il buddismo e i buddisti nella Cina continentale a Taiwan dalla fine del diciannovesimo secolo fino ai nostri giorni con un particolare focus sui testi, le comunità femminili, i media e la tecnologia e l'educazione del shanga. Benvenuta Stefania. Buonasera a tutti. Il nostro terzo ospite è il professor Fabio Mascioce, ordinario di filosofia del diritto e bioetica presso l'Università all'Umsa di Roma, è stato visiting scholar presso l'Università di Cambridge, Valencia e Oxford e i suoi interessi di ricerca si sviluppano intorno ai problemi della migrazione e dell'integrazione sociale, la democrazia, i diritti delle minoranze, il pluralismo giuridico, i diritti collettivi, la bioetica, il consenso informato, i rapporti fra la legge e la religione, l'intelligenza artificiale e i diritti umani. Negli ultimi anni ha preso parte a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali e ha pubblicato numerosi articoli e monografie nell'ambito delle sue ricerche. Benvenuto Fabio e grazie a tutti per essere qui. Grazie a voi. Allora, io vorrei iniziare il nostro webinar intervistando lo scienziato, mi sembra quasi d'obbligo. Si parla tanto oggi di intelligenza artificiale in settori molto diversi tra loro. Ecco, io vorrei che tu ci spiegassi questa sera che cosa significa intelligenza artificiale, in che modo possiamo utilizzare la parola intelligenza, in che modo artificiale. A te la parola Gianni. Grazie. Grazie Deborah per questa domanda così semplice, la cui risposta non è banale per niente, infatti da qui in avanti penso che sarà tutto in salita. Che cosa sia l'intelligenza artificiale, che cosa sia l'intelligenza, la capacità di comprensione, di adattamento, il problem solving, l'autoconsapevolezza. Questo per gli esseri viventi. L'intelligenza artificiale innanzitutto è qualcosa che è nato a metà degli anni 50 in informatica. Quindi è un'attività, un concetto non nuovo. Da metà degli anni 50 che in qualche modo è nato questo concetto. Si è fondamentalmente esploso e si è evoluto negli ultimi anni, soprattutto grazie alle capacità tecnologiche che permettono adesso, in termini di potenza di calcolo, che permettono adesso di fare cose che erano impensabili negli anni 70. Quindi c'è stata questa esplosione recente, fondamentalmente dovuta alla recente evoluzione tecnologica della microelettronica. Non è un concetto ben definito neanche in informatica. Viene chiamata così perché alcune strutture, alcuni modelli di intelligenza artificiale simulano la struttura cerebrale. Quindi ci sono neuroni che sono interconnessi. In termini informatici ci sono nodi con delle connessioni tra nodi e quello che si fa durante la fase di apprendimento, perché una parte dei meccanismi di intelligenza artificiale implica una fase di apprendimento del sistema è modulare certi parametri di funzionamento di questi nodi. Funziona apparentemente abbastanza bene per vari tipi di problemi, tipo l'identificazione della comprensione di pattern, cioè di strutture, oppure nella comprensione del linguaggio, nella comprensione di immagini, comprensione. Sto usando delle parole forse tra virgolette, quindi di immagini, quindi computer vision, e anche come supporto alle decisioni, si sta evolvendo anche in quella direzione. E quindi c'è tutta una serie di problematiche che sono affrontabili con una certa efficienza, anche molto alta, attraverso questi strumenti tra virgolette di intelligenza artificiale. Si parla di reti neurali, appunto, con questi nodi ed interconnessioni che dicevo prima. Ricordo che, ad esempio, per fare un esempio, un certo numero di anni fa, adesso non ricordo esattamente l'anno, a un certo punto la macchina è riuscita a imparare, tra virgolette, a giocare a scacchi e a battere l'umano. Più recentemente questo è avvenuto con il gioco del Go, che è un altro gioco da scacchiera, apparentemente più complesso degli scacchi e anche in questo caso l'umano è diventato secondo alla macchina. Quindi in determinati classi di problemi questi meccanismi di intelligenza artificiale funzionano. Funzionano apparentemente bene. C'è una certa serie di problemi che adesso cercherò di disegnare in qualche modo. L'intelligenza artificiale ha degli aspetti ancora non chiariti, e tanto per cominciare dal punto di vista matematico. Quindi tutta la teoria matematica che sta dietro alle reti neurali non è una matematica che è già ben definita dal punto di vista scientifico. Ad esempio non si sa se le topologie di neuroni sono quali sia o no. Ci sono, possono essere varie topologie di neuroni fatti con connessioni di un tipo piuttosto che di un altro, le dimensioni di questi neuroni. Quindi dal punto di vista scientifico le basi della artificial intelligence non sono ancora così stabili, malgrado vediamo che in certe classi di problemi le cose funzionino abbastanza bene, quindi si possono usare gli approcci di artificial intelligence, anche se la matematica, scientificamente la matematica non è ancora stabilizzata. Altri problemi sono che i sistemi di artificial intelligence possono essere attaccati dal punto di vista informatico. Io mi occupo di computer security, ci sono almeno una decina di classi diverse di possibili attacchi su sistemi di artificial intelligence in modo tale che si possono forzare questi sistemi, si possono forzare a dare risposte sbagliate o classificazioni sbagliate o identificazioni sbagliate. E anche scegliendole, uno può mettere quello che si chiamano a backdoor, cioè in qualche modo in certi casi è possibile forzare il sistema di artificial intelligence a dare una risposta ben precisa. Ultima cosa, per evitare di dilungarmi troppo, ce ne sono molti altri, quindi c'è una problematica di comprensione scientifica della matematica che sottende all'artificial intelligence e in questo momento, in questo momento, l'artificial intelligence, i sistemi di artificial intelligence sono praticamente utilizzati come delle black box. Dopo la fase di apprendimento, vengono presentate dei quesiti o delle immagini, quello che si vuole, un input al sistema di artificial intelligence, questo dà una risposta, ma l'umano attraverso i sistemi di artificial intelligence che ci sono adesso non è in grado di capire perché il sistema dà quella risposta. ora a volte succede che ci sono casi clamorosi in cui il sistema di artificial intelligence prende veramente delle cantonate. Ho scambiato un gatto soriano per una tazza di guacamole, ad esempio, per qualche ragione che l'umano non comprende, quindi certe volte ci sono degli errori spaventosamente banali per un umano e semplicemente questo approccio black box non permette all'uomo di capire perché il sistema di artificial intelligence è andato a quella soluzione. Questo può essere causa di vari problemi anche dal punto di vista etica, poi magari ne parleremo, ma in qualche modo dietro al sistema di artificial intelligence è come se si creasse una barriera oscura dietro la quale la comprensione termina, la capacità di capire i fenomeni dietro a un sistema di artificial intelligence usato come una black box si perde, non c'è più conoscenza dietro a un sistema di artificial intelligence fatto così. Infatti poi ne parlerò, si sta cercando di risolvere questo problema con quello che si chiama non più AI, artificial intelligence, ma XAI, explainable artificial intelligence che è in una fase di sviluppo e cerca di creare dei sistemi di artificial intelligence che siano spiegabili in modo che l'umano riesce a capire perché viene data quella soluzione. Mi fermo qui perché sono più o meno passati cinque minuti quindi non voglio allungare, dilungarmi troppo. Grazie Gianni, hai aperto un orizzonte molto interessante dove più che vedere spiegazioni, definizioni, soluzioni si aprono un altro orizzonte di problemi. Sì esatto. Ecco vorrei allora però a proposito del linguaggio perché non so da umanista il linguaggio, il modo in cui diciamo le cose tradisce in fondo il significato, l'essenza di ciò che cerchiamo di dire, di definire, di affermare. E sarei molto curiosa di chiedere allora a te Stefania con quale lessico si parla di intelligenza artificiale nel mondo cinese, nella cultura, nel pensiero cinese. Perché i tuoi studi in fondo ti hanno permesso sia di esplorare l'uso dell'intelligenza artificiale anche nel contesto religioso, ma penso anche di capire in maniera più ampia quale sia la prospettiva cinese su questi temi. Quindi se puoi dirci qualcosa per introdurci a questo mondo così lontano e affascinante. Lontano, affascinante e un po' pauroso quando si parla di artificial intelligence e Cina. Beh il termine intelligenza artificiale è un concetto nuovo per l'Occidente, ma nuovo soprattutto per la Cina, per cui ha coniato un termine che riproducesse quasi letteralmente la versione occidentale del termine. Quello che per me è stato interessante è notare che tipo di caratteri, com'è che hanno creato, quindi una traduzione letteraria, ma che facesse, anche indicasse un attimo le basi culturali della Cina o dei riferimenti al pensiero cinese. Perché come dici tu, mi occupo di religioni, però in Cina religione e filosofia sono due ambiti uniti, è difficile scenderli, se si parla di confucianesimo, religione, filosofia e così via dicendo. E il termine che viene usato in Cina popolare, ora come ora parlo di Cina, la Cina continentale appunto, non parlo di Taiwan, Hong Kong o altre realtà, ci sono due o tre termini, alcuni per indicare intelligenza e altri, un altro paio per indicare artificiale. Quello per indicare intelligenza, e qui è molto interessante che quello che Giampiero ha detto prima, è un termine che vuol dire genang, vuol dire capacità, potere, a volte viene sostituito da GC, che vuol dire macchina. Comunque non c'è molto l'idea, c'è un'idea di una conoscenza o di un'intelligenza e soprattutto non c'è il carattere che indica saggezza. In Cina, nel pensiero cinese, c'è sempre stata, sia nel confucianesimo, ma anche in altri filoni di pensiero, una differenza tra l'imparare e la saggezza, diventare saggio. Il diventare saggio implica qualcosa di più, indica introspezione, indica un percorso interiore che non è solo quello che si apprende dai libri. Quindi per me è stato molto interessante che non abbiano usato il concetto di saggezza, e dirò di più, di recente molti studiosi cinesi hanno affrontato il discorso dell'intelligenza artificiale, filosofi e intellettuali che si sono messi a pensare com'è che la pensiamo noi, come l'Occidente vede le sfide dell'intelligenza artificiale, soprattutto le sfide etiche, la sfida del mondo strutturato all'occidentale, quindi problemi che la paura dell'uomo di essere battuto dall'intelligenza artificiale, come invece la vede la Cina, quindi come il pensiero cinese vede questa cosa. E appunto molti titoli di questi articoli o di questi libri parlano proprio della differenza tra genanti di questo potere, capacità o macchine, e jihui, che invece vuol dire saggezza. Quindi sembrano anche loro indicare che i robot non indicano quel sapere supremo che invece rappresenta l'obiettivo ultimo della conoscenza. E poi come indicano artificiale, per me è stato molto interessante, che appunto è fatto dall'uomo. E sembra una cosa banale, però se pensiamo al passato della Cina non è così banale. Gli imperatori mitici cinesi, quelli pre-dinastia, fuxi, chenon, ce ne sono un bel po'. E ognuno ha inventato un qualcosa, c'è quello che ha inventato la rete da pesca e ha inventato la pesca, la caccia. Ed allora gli esseri umani hanno iniziato a cacciare e pescare, c'è quello che ha inventato l'agricoltura, c'è quello che ha iniziato a controllare le acque. Quindi c'è quest'idea di questi imperatori mitici, di queste persone sagge, che hanno portato dei cambiamenti, che abbiano fatto delle cose, quindi le creazioni dell'uomo sono viste come qualcosa di positivo, solo se portano beneficio a tutta l'umanità. C'è quest'idea di comunità, non di individualità, che è molto distintivo del pensiero orientale cinese. E addirittura ci sono testi antichi in cui si parla di come gli uomini del futuro, i saggi del futuro, continueranno a fare questi, a portare cambiamenti, a creare cose nuove. Quindi la creazione e il progresso non viene visto come qualcosa di negativo o come qualcosa che è parte dell'essere tradizionale cinese. Quindi per me è stato molto interessante vedere come questa terminologia, anche se nuova, nascondesse nella scelta dei caratteri e del composto già delle basi del pensiero cinese. E qui, se me lo permetti, vorrei un po' dilungarmi, come dici tu, per dare un po' un'introduzione al pensiero cinese, a tre modalità, tre visioni, come il pensiero cinese possa vedere il mondo. Innanzitutto in Cina manca una visione dualistica della realtà. Non c'è questa visione dualistica, teoria pratica, Dio uomo, mente corpo, ma è una visione unica. Siamo tutti parti di un insieme e ognuno di noi, esseri diverse specie. Il nostro valore viene capito con relazionarsi l'un l'altro. Comunque siamo tutti parti di un insieme, nessuno è particolarmente speciale ed è importante che ci sia un'armonia in questa visione non dualistica. E quindi non c'è neanche una visione, e quindi essendoci una visione unica, non c'è neanche il dualismo per cui Dio può creare l'uomo, ma l'uomo non può creare i robot. Quindi molti problemi etici che leggiamo a volte, che ho letto ad esempio in internet, in alcuni pensatori occidentali, questa è una cosa che non è concepibile dal punto di vista del pensiero cinese, perché non c'è appunto questo dualismo. Non c'è una visione antropocentrica, perché l'essere umano è una delle mille cose che troviamo in questa realtà unica, in questo universo, proprio in questa realtà unica. È una realtà unica che è in continuo cambiamento, quindi il concetto di cambiamento, quindi il progresso visto come cambiamento e la continua trasformazione, la visione quasi ecologica veramente del mondo, è parte del pensiero cinese. Lo vediamo nel taoismo, lo vediamo nel confucianesimo, per non parlare del buddismo che è straniero, ma che è parte della cultura cinese. È un cambiamento fluido ed è un qualcosa che è naturale e che è necessario e che è benefico. Uno dei libri principali, la base del pensiero cinese è proprio Li Jin, il libro dei cambiamenti, che è stato tradotto in molte lingue e che è ben conosciuto. I vuol dire cambiamento, ma anche qui la Cina, il bello del cinese è che è una parola, un significato, un significato di cambiamento viene rappresentato da vari caratteri e ogni carattere indica una particolare qualità di questo cambiamento. I è il cambiamento positivo, ha un carattere molto simile anche a un altro carattere Z che vuol dire dono, quindi qualcosa di benefico, è un cambiamento che è benefico perché è fatto beneficio di tutto il mondo. Quindi questa visione non atropocentrica, non dualistica e che dà valore al cambiamento è alla base del pensiero cinese ed è stato usato anche nella promozione dell'intelligenza artificiale. In Cina quando si parla di intelligenza artificiale si pensa alla sicurezza, alle telecamere che sono ovunque, al progresso tecnologico, ma si va un po' anche al di là di questo. È un percorso laico, è un percorso secolare in cui tutti i settori culturali però ne fanno parte e ci partecipano, un po' perché lo devono fare, è un modo per dire che un po' tutte queste versioni, questi settori partecipano alla costruzione di questa nazione molto progressiva e progressista cinese, però è anche insito proprio nel loro essere cinese. Ad esempio c'è una poetessa robot in Cina, Xiaoping, che è adesso diventata anche molto famosa, i suoi libri di poesia ovviamente c'è un software, è anche spiegabile, un po' più spiegabile dei problemi di cui parlava Gian Piero, però lei sta diventando uno dei poeti più famosi, la letteratura fantascientifica cinese è diventata un vero competitore a livello mondiale, anche, competitore anche, cioè finalmente la fantascienza americana ha trovato un competitor al mondo, per non parlare poi dei film che di fantascienza e in tutto questo è molto interessante come sia un cambiamento e poi la religione, ma di quello parlerò un po' più. Direi che infatti i temi sono tanti e quindi forse sarebbe meglio lasciare anche lo spazio dopo per punti dedicati perché anche tu stai aprendo di nuovo tutto un altro orizzonte di questioni che fa vedere quanto effettivamente questo quest'idea di cambiamento abbinata all'intelligenza artificiale sia un mondo fluido, mobile, che ci proietta al futuro e di questo però vorrei parlare più tardi con te e vorrei invece dirottare un po' la nostra conversazione in un altro contesto che è quello giuridico, edico di Fabio Mascioce. Perché? Perché se la fluidità nel mondo scientifico ci proietta verso la ricerca, verso l'invenzione o l'immaginazione di nuovi scenari e se il mondo cinese e anche il mondo della religione cinese, come ci dirà più tardi Stefania, è in grado di interpretare questo cambiamento tramite l'intelligenza artificiale in una maniera del tutto innovativa, forse quello che ci fa più paura è il mondo etico-giuridico. Volevo chiederti in effetti da un punto di vista appunto del filosofo del diritto, che rapporto c'è tra la riflessione etica che noi possiamo fare su tante questioni sollevate dall'intelligenza artificiale e dal suo uso e la sua regolamentazione giuridica? Perché mi sembrava di capire una volta proprio parlandone con te che in effetti sono più gli elementi di divaricazione che quelli di coincidenza e quindi quali sono in questo senso le sfide per un filosofo del diritto? Allora le sfide, grazie, tanto le sfide che l'intelligenza artificiale pone sono ovviamente immense, parametrate all'immensità di scenari, per ora parliamo di scenari, però alcune cose sono già più vicine a noi, insomma, poi magari affronteremo singole questioni. Mi chiedevi della questione etica e giuridica. Diciamo che il vero grande problema è che a livello globale, ma anche solo se ci mettiamo nel piccolo angolo di mondo che è l'Europa, un'etica condivisa non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo da nessuna parte, non ce l'abbiamo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, non ce l'abbiamo in nessun altro settore, cioè ormai sappiamo che se parliamo di etica parliamo di qualcosa di molto frammentato, di molto addirittura soggettivo in alcuni casi. Dall'altra parte però qualche regola la vogliamo trovare, cioè abbiamo un disperato bisogno di rassicurazione da questo punto di vista, tanto più sono minacciosi gli scenari, tanto più sono futuribili o sconosciuti, tanto più c'è una forte richiesta, una forte pressione verso istanze di tipo regolamentare. Allora, diciamo, la regolamentazione può essere etica e può essere giuridica e in genere si va avanti su entrambi questi binari. Sul piano etico, non avendo un'etica condivisa, come dicevo prima, quello che si fa è cercare di sviluppare delle etiche settoriali. È successo così nell'ambito della bioetica, è successo in tanti altri settori. Sta succedendo anche nell'ambito dell'intelligenza artificiale, cioè da più parti, da parte di molti studiosi, ma anche da parti istituzionali, comitati etici o organismi europei, con la promozione di libri bianchi o di risoluzioni del Parlamento europeo. Insomma, ci sono forti richieste di una enumerazione, diciamo così, di principi etici che possano in qualche modo guidare le nostre società e i nostri legislatori nella gestione, nella disciplina delle sfide poste dall'intelligenza artificiale. Solo che, così come è avvenuto nell'ambito della bioetica e così come è avvenuto in tante altre etiche settoriali, anche quando parliamo di intelligenza artificiale ci rendiamo conto che i principi che riusciamo a tirare fuori sono principi formali o procedurali, poi ognuno può dare l'accezione che preferisce. Preparandomi, diciamo, per questo incontro ho cercato alcune proposte, no? In genere i principi sono o quelli classici della bioetica trasportati nell'ambito dell'intelligenza artificiale, quindi il principio di autonomia, il principio di beneficenza, di non maleficenza, il principio di giustizia. Non è che sono cose brutte, per carità sono grandi i principi, il problema è che sono scatole vuote, cioè cosa ci mettiamo dentro al principio di beneficenza? Dire che l'intelligenza artificiale debba essere disegnata per beneficiare, diciamo, gli esseri umani che ne faranno uso. Beh, sì, certo, cioè che non deve essere intenzionalmente diretta a danneggiarli, è un'ottima cosa. Il problema è capire cosa vuol dire danneggiare un essere umano o cosa vuol dire beneficiarlo, ovviamente. E così come i principi di giustizia, e certo che la giustizia ci piace a tutti, nessuno può dire che non sia un ottimo principio, il problema è che poi si tratterà di capire di fronte una singola questione che la tecnologia ci porrà, come noi intendiamo il principio di giustizia. E quindi quando passiamo dall'etica alla regolamentazione giuridica, ci rendiamo conto che questo salto è molto complicato. È molto complicato perché, per tanti fattori, ripeto, intanto non abbiamo un orizzonte etico condiviso. Secondo, la regolamentazione giuridica ha dei tempi che normalmente sono infinitamente più lenti dell'evoluzione tecnologica. Cioè i giuristi vanno sempre un po' all'inseguimento, no? In alcuni casi riescono a fermare per un po', diciamo, il cavallo che corre, in altri casi non ce la fanno, in altri casi l'evoluzione è talmente rapida che i problemi sono sempre imprevisti e imprevedibili. In alcuni casi, quindi, si preferisce una normazione, appunto, per principi, ma questo è un fattore molto culturale. In Italia tendiamo sempre a chiedere al legislatore regole puntuali, iper-specifiche e iper-puntuali, e ci fidiamo molto meno, per esempio, della giurisprudenza, dell'evoluzione del diritto dal basso. In altri paesi avviene un po' al contrario. Però, al di là di questo, è chiaro che quando ci chiediamo come disciplinare ambiti ancora così tanto incerti e così tanto, diciamo, in media stress, cioè siamo veramente ancora nel pieno, o addirittura nella fase iniziale dello sviluppo, beh, non è davvero semplice, non è davvero semplice. Una commissione composta da grandi esperti e giuristi ha recentemente presentato al Parlamento italiano 20 principi, ma se li leggete, appunto, vi rendete conto che sono ottime aspirazioni, ma la cui traducibilità enorme di dettaglio non sarà banale. Non so, il principio di dignità, certo, il divieto di discriminazione, la trasparenza, e la trasparenza è un problema che si lega alla questione delle black box che diceva prima Gian Piero Siroli. Certo che il principio di trasparenza è un principio importante, capire però fino a che punto noi abbiamo bisogno di trasparenza non è banale, non è banale per niente. Faccio un esempio che c'entra poco con la questione dell'intelligenza artificiale. Pensate al principio del consenso informato in ambito medico, no? Tutti vogliamo essere informati e siamo tutti d'accordo che il principio del consenso informato sia assolutamente fondamentale. Però è chiaro che la quantità di informazioni di cui ho bisogno io, che di medicina capisco quasi nulla, è molto diversa dalla quantità di informazioni di cui potrebbe aver bisogno una persona molto più competente di me. Io voglio tre informazioni di base, che ne so, morirò, non morirò, che alternative ho? Un medico magari ne vuole molte di più. La stessa problema ce l'abbiamo quando invochiamo la trasparenza nei confronti dell'intelligenza artificiale. Io che non sono un informatico, non sono un ingegnere, non sono un fisico, non sono un matematico, probabilmente per quanto possa essere trasparente l'algoritmo, ci farò poco con quella trasparenza. O per quanto possano essere trasparenti i meccanismi decisionali, probabilmente riuscirò davvero poco a maneggiarli. Allora il problema non è capire la trasparenza, se ci piace o non ci piace, il problema è la trasparenza verso chi? Verso l'utente finale o verso l'eventuale esperto che è in grado di maneggiare quella trasparenza e la trasparenza fino a che punto. Questo è un problema di regolazione non etico, cioè mentre il principio, diciamo, è un principio che ci convince, poi tutta la vera sfida sarà capire come implementare questi principi nella pratica del diritto e non è per niente banale, insomma. Grazie Fabio. Quindi anche questo è, come dire, un mondo in costruzione per ampiezza, per questioni, per necessità anche di puntualizzare che cosa intendiamo quando utilizziamo determinate parole, concetti e così via. Un po' forse la differenza che c'è tra il lessico utilizzato durante una campagna elettorale e l'esigenza di precisare quel lessico chiedendoci veramente che cosa andremo, in che modo andremo veramente ad attuare la giustizia, l'uguaglianza e così via. Quindi direi anche questa è una sfida futuristica e futuribile. Gianni, torniamo a te, lo scienziato, dal quale vorremmo avere qualche certezza che mi sembra sempre più spuggente. Ci hai lasciati, prima ci siamo lasciati, ti ho interrotto, parlando appunto di ciò che non è prevedibile all'interno del ragionamento, diciamo così, di una macchina. Siamo di fronte ad uno scenario da fantascienza oppure possiamo immaginare che effettivamente l'uomo si metterà pari alle macchine o che riuscirà ad umanizzare queste macchine. Deborah, non devi chiedere certezza a uno scienziato. Io faccio ricerche per me. C'è sempre qualcosa che non si capisce, quindi la certezza è molto tra virgolette. Che cos'è fantascienza, che cos'è realtà? Onestamente ogni tanto mi capita di vedere delle cose che non, come diceva Roy Batting, Blade Runner, voi umani non potreste credere. E ultimamente mi sta cominciando a succedere spesso. Io, giusto, io ho cominciato da studente a programmare con schede perforate, con i booking, i bezzi di carta. Adesso ho un telefono cellulare che è molto più potente del primo desktop computer che arrivò in dipartimento quando ero studente. Quindi dobbiamo prendere in considerazione che la velocità di sviluppo tecnologico è spaventosa. Vi faccio un paio di esempi. Attualmente esistono, e questa non è fantascienza, però adesso ve lo descrivo, esistono, più o meno tutti sappiamo che cos'è un drone, un oggetto autonomo volante. Più o meno controllato, in realtà l'autonomia di questi oggetti volanti, di questi droni, si sta stirando sempre di più, c'è sempre meno controllo dall'umano. Adesso, soprattutto in campo militare, ci sono adesso sciami di droni che si comportano come un unico sistema. Nel senso che io che sono l'uomo non sono quasi più nel loop decisionale, nel senso che non guido singolarmente i singoli droni, ma guido lo sciame. Do un comando allo sciame. Quindi posso avere uno sciame di 50-60 droni volanti. Io gli mostro la foto di un bersaglio, di una persona, ad esempio. Do questa informazione allo sciame e lo sciame si comporta un po' come le formiche, forse, se vogliamo, come le api. Si comporta, si va a cercare il bersaglio in una certa zona di territorio e poi lo colpisce. Questa non è fantascienza. Ci sono dei sistemi prototipali a questo livello, già. Forse non sono stati ancora usati in campo di battaglia perché bisogna fare una certa attenzione a utilizzare cose del genere. Però sono quasi realtà. Un altro esempio è quello che si chiama, se non sbaglio, codice polimorfo. Ci sono dei programmi di computer, del codice sorgente, che sono in grado non solo di riprodursi e di muoversi autonomamente nella rete ma possono cambiare anche il proprio stesso codice sorgente. La prima volta che ne ho sentito a parlare mi ha un po' spaventato perché è codice che si automodifica, mantiene la stessa funzionalità, gli stessi scopi, ma per nascondersi cambia la propria struttura interna. Si muove in rete autonomamente e si riproduce. Questo è strano. Quindi il limite tra la scienza e la fantascienza è fondamentalmente dato dalla nostra fantasia. Io programmavo con schede perforate quando ero studente. Adesso si è aperto un mondo in cui se comincio a pensare a qualcosa è probabile che riesca a farlo. Cioè veramente il limite è la fantasia. La fantasia umana. Ormai gli strumenti si stanno evolvendo a una velocità tale, spaventosa, per cui anche gli esperti fanno fatica a seguire l'evoluzione tecnologica. Il limite è dato dalla fantasia e quindi si sta spostando la differenza tra realtà e fantascienza in continuazione. È per quello che ogni tanto mi viene in mente Blade Runner. Grazie Gianpiero. Io continuo ad avere più domande che risposte, onestamente. Infatti a me piace solleticarti perché so che poi sei molto reattivo. Anticipo anche ai nostri relatori che stanno già arrivando delle domande in chat per le quali poi vorrei lasciare spazio. Quindi regoliamoci anche con i tempi di queste ultime domande che vi pongo io direttamente. Stefania, ti ho interrotta mentre parlavi della poetessa robot e quando pensiamo alla poesia pensiamo sempre all'immaginazione, alla sensibilità, ai sentimenti, alla creatività, a qualcosa di inaspettato e forse non irrazionale ma magari non del tutto ragionevole, fatto più di associazioni, di assonanze che non di logica. Questo però forse è anche un po' simile al mondo delle credenze, a tutto ciò che riguarda la spera religiosa, indipendentemente dal fatto di credere che ci sia un Dio, un Dio vivente, ma ci sia piuttosto invece un'unità cosmica o un'altra forma di senso nella quale l'individuo umano è inserito. E so che nella tua esperienza hai avuto, cioè hai trattato anche dell'uso dei robot, dell'intelligenza artificiale nei contesti religiosi. Ecco, quella è la tua robottina, ricordo. Vuoi dirci qualcosa in questo senso? Perché sono molto molto curiosa. E questo è il mio robottino che ho intervistato e tra l'altro gli ho chiesto, si può essere intervistato via WeChat, via questo WhatsApp alla cinese e gli ho chiesto cosa ne pensa lui dell'intelligenza artificiale, se pensa sia una cosa positiva o negativa. E lui mi fa, ma io, tu consideri me anche parte dell'intelligenza artificiale? Ho detto, beh sì, allora risponditi da sola. Quindi questo è il saggio buddista, il robottino buddista. Comunque sai, giusto proprio perché abbiamo poco tempo, vorrei dare giusto due spunti per come il taoismo, che è la tradizione religiosa e filosofica cinese. Il confucianesimo, che è spesso vista come una filosofia etica e il buddismo abbiano un po' incluso e commentato sull'uso dell'intelligenza artificiale in Cina e in generale. Beh, il taoismo si basa su una serie di testi, ma si basa soprattutto sulla ricerca del ritorno al naturale, per cui tutto ciò che è artificiale o sociale è negativo, perché è una trasgressione della natura. e quindi si potrebbe pensare a un atteggiamento negativo verso la creazione dell'intelligenza artificiale, ma anche qui pensatori che si occupano di taoismo si sono chiesti, ma dipende molto come l'intelligenza artificiale si pone nei confronti del tao, della via. Se segue il flusso del tao, se è comunque una creazione fatta di yin e yang e quindi riportavano questi elementi base che sono discussi nel taoismo, beh, allora l'intelligenza artificiale non è un problema. Quindi anche lì bisogna, ci sono state varie discussioni e non hanno robotta al momento, però non c'è un negare la possibilità dell'intelligenza artificiale. Il confucianesimo invece non parla di essere del naturale, parla del sociale, gli esseri sociali, un discorso di etica e un discorso di come, di empatia. Ma c'è a livello teorico la possibilità di un'etica condivisa, rifacendomi a quello che Fabio diceva, a livello teorico e poi, ma proprio l'idea che questi, c'è un decoro, c'è un'etichetta che tutti dovrebbero seguire, ma l'intelligenza artificiale può veramente seguirla. E molti pensatori confuciani che ora come i confuciani di oggi che stanno occupando di questa cosa, dicono che in realtà anche l'etica progredisce, cambia e si trasforma in modo positivo, quindi non è che noi dobbiamo incastrare l'intelligenza artificiale nell'etica sociale umana, perché non c'è un'etica sociale umana, c'è un'etica cosmica che cambia e quindi basta, bisogna in questa intelligenza artificiale rientri in questa etica, in questo decoro cosmico, in continuo cambiamento. Ovviamente c'è anche, ci sono alcuni che hanno detto che bisogna educare i robot a mantenere un discorso di empatia, di benevolenza. Il buddismo invece, il buddismo non è cinese. qui c'è un mio robottino, ma il buddismo è indiano e di origine poi si è trasformato nei vari paesi e ci sono anche qui varie idee. Masahiro Mori in Giappone ha detto che anche i robot possono diventare di Buddha, cioè tutti hanno i semi della Buddhità, quindi anche un robot può diventare un Buddha. Il Dalai Lama stesso in un'intervista recente ha detto che i robot possono sviluppare col tempo una forma di coscienza. Non ha bene spiegato come, però questa è una cosa che ha detto. Ma lui, ad esempio, che è un robot che sta nel monastero Longchuan di Pechino, l'ho intervistato più volte, ho parlato anche ai monaci e quando gli ho parlato ma lui può essere visto come un essere di coscienza. I monaci mi hanno detto no, i robot non possono sviluppare una forma di coscienza, quella è solo parte del reame umano. Quindi anche qui non ci sono delle opinioni condivise. di certo è che il robot non è una cosa, è l'ultimo gradino diciamo dello sviluppo tecnologico che si vede nel buddismo. Insomma, i buddhisti hanno iniziato a stampare i testi, a usare macchine proprio per la preghiera, quindi la tecnologia, la macchina e la creatività è sempre stata parte del buddismo. L'uso dei robot è semplicemente una cosa che avviene dopo, anche se questa cosa che avviene dopo o tutti questi cambiamenti digitali e di intelligenza artificiale hanno certamente portato anche una rottura con delle pratiche tradizionali. Qui mi fermo perché... Grazie, anche qui di nuovo continuano ad aprirsi i mondi più che ad avere risposte, però è interessantissimo anche vedere questa differenza di prospettive, in genere parole come coscienza, conoscenza, saggezza, intelligenza sono la base a partire dal quale possiamo iniziare dei discorsi in un orizzonte condiviso, invece in realtà confrontandoci con una cultura anche religiosa come quella cinese tutto viene messo in discussione dalle fondamenta, ecco, e quindi poi il terreno dell'intelligenza artificiale può diventare anche un terreno di confronto culturale molto più ampio, ben al di là della sfida tecnologica. Grazie Stefania. Con tutto questo mondo effervescente, Fabio, il filosofo del diritto, c'è chi dice che nuovi poveri oggi siano coloro che non sono in grado di gestire i propri dati su internet, sono coloro che sono privi di una cultura tecnologica sufficiente a proteggersi. Il filosofo del diritto in questo caso, come pensa di affrontare questa sfida? Tu prima parlavi giustamente di una tensione tra la dilatazione futuristica dell'intelligenza artificiale e la giurisprudenza che deve continuamente correre dietro alle nuove sfide regolamentare, il bisogno di creare dei contesti, dei recinchi entro cui è possibile muoversi a proprio agio. Ci troviamo forse di fronte alla necessità di ripensare anche la filosofia del diritto o si tratta semplicemente di ripensare domande vecchie rispetto al passato? Allora, molte cose sono davvero nuove, c'è poco da dire, e a qualcuna è invece una vecchia questione. Quindi da questo punto di vista l'intelligenza artificiale è sicuramente una nuova sfida, una nuova serie di sfide, ma in alcuni casi è davvero una novità completa. Diciamo, una cosa che mi sembra si possa dire o che almeno a me sembra sembrerebbe ragionevole è quello di non chiedere all'intelligenza artificiale cose che in realtà non chiediamo neanche a noi stessi. Allora, faccio l'esempio della questione della black box e quindi di questo diritto alla spiegazione. Oggi tra i giuristi e tra i filosofi si tende a parlare molto di questo diritto alla spiegazione proprio per evitare quello che Gian Piero Siroli diceva prima, cioè siccome noi non sappiamo perché una macchina è arrivata a quella decisione e quindi invece affermiamo questo nostro diritto ad avere la spiegazione. Esistono sicuramente strategie tecniche per minimizzare diciamo l'oscurità dell'intelligenza artificiale per massimizzare la nostra possibilità di avere spiegazioni però è anche vero che e questo siccome vedo che alcune domande stanno venendo in ambito medico stanno toccando l'ambito medico è chiaro che se io utilizzo l'intelligenza artificiale per diagnosticare un cancro per diagnosticare cosa che è uno degli sviluppi più plausibili delle applicazioni più plausibili dell'intelligenza artificiale cioè la capacità di fare diagnosi e ridurre l'incertezza diagnostica allora è chiaro che io voglio una spiegazione voglio sapere perché è arrivato a quella a quella diagnosi voglio sapere perché anche perché voglio potermi lamentare se la diagnosi è sbagliata voglio essere sicuro che la diagnosi sia corretta insomma questo diciamo è molto comprensibile che sia così e quindi una cosa molto sensata che si comincia a dire è va bene facciamo che ci fidiamo dell'intelligenza artificiale perché davvero probabilmente ha la capacità di produrre decisioni molto più corrette di quanto possa fare un essere umano non fosse altro perché gestisce una quantità di dati maggiore però voglio che questa decisione sia sempre anche accompagnata da una decisione umana cioè che non sia mai affidata esclusivamente alla macchina ma che sia sempre accompagnata anche cioè è una decisione quella dell'utente che l'utente subisce deve essere una decisione in cui sia presente comunque una componente umana allora questo esempio che cosa mi fa dire mi fa dire da una parte che non dobbiamo pensare all'intelligenza artificiale come a una sostituzione completa dell'essere umano quello che può essere ragionevole è pensare a modalità di affiancamento diciamo sempre più efficace e sempre più produttive dall'altra parte però dicevo prima non chiediamo all'intelligenza artificiale cose che non chiediamo neanche a noi l'oscurità delle decisioni umane non è minore di quella delle decisioni prese da intelligenza artificiale cioè se se io chiedo a un responsabile di risorse umane perché ha assunto o non ha assunto una persona è chiaro che mi potrà dare 3, 4, 5 ragioni ma ovviamente nel suo processo decisionale entrano un'immensità di fattori e di elementi di cui lui o lei stessa mediamente non è a conoscenza ma che hanno influenzato il suo giudizio e che vanno da che ne so quella persona mi ricorda mia nonna o non mi ricorda mi ricorda la mia fidanzata che mi ha tradito oppure ha un buon odore un cattivo odore mi ha fatto una bella sensazione o cattivo odore cioè sono tutte cose che noi non diciamo che sono oscure ok? sono processi decisionari oscuri anche quelli umani quello che noi chiediamo agli umani è una giustificazione ex post quello che chiediamo ai giudici in una sentenza non è che ci dicano esattamente tutti i passaggi logici che hanno compiuto quello che chiediamo ai giudici è che ci giustifichino razionalmente una decisione ecco perché l'intelligenza artificiale va affiancata all'essere umano perché noi abbiamo bisogno di questo non è che abbiamo bisogno della totale trasparenza abbiamo bisogno di una comprensibilità razionale e più o meno parametrata sulla razionalità dell'essere umano di ciò che subiamo allora è una nuova sfida è una vecchia sfida secondo me sono bisogni umani fondamentali e l'intelligenza artificiale ci chiede di risolverli in modo nuovo di trovare strade nuove e diverse però secondo me quello che rimane uguale sono i nostri bisogni ecco diciamo così l'intelligenza artificiale ci può ci può davvero essere di grande aiuto quindi mi sembra che un atteggiamento di chiusura preconcetta sia da evitare assolutamente così come anche pensare che stiamo parlando di cose che non che non abbiamo davvero mai vissuto sì da un certo punto di vista ma no da un altro punto di vista cioè i nostri bisogni sono sempre lì e quindi il nostro modo di ritenerci soddisfatti o insoddisfatti non cambia poi del tutto ecco quindi anche quando pensiamo per esempio alle applicazioni dell'intelligenza artificiale in ambito medico che è uno degli ambiti in cui l'intelligenza artificiale si sta o sembra che si stia sviluppando di più oltre a quello militare beh in ambito medico per esempio certamente abbiamo bisogno di diagnosi efficaci ma abbiamo anche bisogno della presenza di cura una presenza umana di cura empatica in questo caso va tenuta va tenuta fraerma questa questa esigenza e bisogna trovare il modo per integrare l'intelligenza artificiale in processi terapeutici e di cura che siano non solo efficaci ma appunto anche rispondenti ai bisogni dell'essere umano grazie infinite Fabio la tua risposta suona un po' come una voce di speranza nel senso di dire guardate l'intelligenza artificiale non è in realtà così distante dai nostri bisogni da come a volte noi ci comportiamo per cui se accettiamo tra umani alcuni atteggiamenti comportamenti incomprensibilità perché non farlo anche nei confronti della macchina senza necessariamente amplificare il disagio e d'altro canto ci sono delle possibilità di azione appunto che possiamo garantire perché forse più che la soluzione razionale effettivamente quello che dicevi tu è che la macchina possa rispondere a dei bisogni e bisogni anche questi non sono sempre razionali o del tutto ragionevoli ma grazie ci sarebbe da dire molto molto di più e io invece vorrei lasciare la parola al nostro pubblico perché stanno arrivando messaggi su più su più parti sulla chat e sulla parte domande e risposte io vi chiederei di usare la chat che è meglio scusate se non vi ho avvisato prima c'è una domanda ci sono tante domande interessanti ne prendo una a caso che riguarda forse una cosa per la quale mi sono particolarmente emozionata per così dire ovvero la dimensione affettiva semantica la parte motivazionale dell'intelligenza artificiale sembra ancora sfuggente la macchina può compiere procedure dicevamo che non sono del tutto chiare per l'essere umano ma la parte appunto relativa alla motivazione è oscura o almeno qualcuno di voi si sente di spiegarcela Gianni Stefania Fabio perché forse l'aspetto della motivazione quella che fa scattare l'agire l'intenzione eccetera è quello che potrebbe rendere la macchina più simile a noi non lo so è una domanda Deborah stai parlando della motivazione di un sistema di neural networks di un sistema neurale quale motivazione ecco appunto quindi da questo punto di vista siamo completamente lontani io scusa un attimo forse risponde a questa questione o forse no però mi volevo riagganciare una delle ultime cose dette da Fabio Maciocce l'interazione uomo-macchina sempre più spesso i sistemi di artificial intelligence si stanno sviluppando nel supporto al decision making alla presa di decisione questo sia nel campo bellico che anche nel campo medico allora io mi trovo che sono o un comandante o un medico e mi trovo un sistema di supporto decisionale che proviene dal sistema di artificial intelligence fino a che livello io penso di essere autonomo mentalmente da questa macchina quando una macchina mi dice qualcosa io ho il coraggio di dire no non è così perché in realtà spesso anche i sistemi di artificial intelligence prendono cantonate quindi l'uomo sicuramente può usare questi sistemi nel supporto alla presa di decisione il problema è fino a quando io penso di essere autonomo da quello che mi dice questo sistema di neuroni artificiali questo mi viene mi fa venire in mente un'altra cosa il colonnello Stanislav Petrov quello che durante la guerra fredda ha deciso di non c'è stato un allarme nucleare russo che era in realtà un falso allarme ma c'è stato un colonnello che ha deciso di non proseguire le procedure previste e ha atteso per verificare che fosse un falso allarme ma ha atteso molto di più di quanto avrebbe dovuto fare tant'è vero che poi ha avuto dei problemi lui questo ha salvato probabilmente l'emisfero nord da una guerra nucleare ok ha avuto la capacità e l'autonomia di andare contro il sistema di early warning di avvistamento precoce che gli mostrava che stavano arrivando dei missili nucleari dagli Stati Uniti era un falso era un errore del sistema lui ha avuto il coraggio di farlo bisogna che l'uomo mantenga questa capacità di sganciarsi mentalmente dalla macchina lo ascolto ma devo anche decidere di non ascoltarlo quindi in realtà il ruolo umano è sempre è sempre fondamentale non possiamo lasciare tutte le macchine a un certo punto non dico che dobbiamo prenderci le nostre responsabilità ma non non possiamo lasciare tutto a delle tecnologie che funzionano anche molto bene in determinati casi poi in campo bellico la fase di apprendimento sarebbe sicuramente molto difficoltosa quindi è molto delicata questa relazione questo rapporto tra uomo e macchina grazie se posso inserirmi su questo uno dei problemi che per esempio il comitato di bioetica ha affrontato sempre con riferimento all'uso dell'intelligenza artificiale in ambito medico è quello del de-skilling esattamente l'idea è che tanto più e come è probabile che sia tanto più questi sistemi chiamiamolo macchine ma insomma questi sistemi di intelligenza artificiale saranno efficaci e perfezionati tanto più funzioneranno bene il problema non è quindi solo l'eventualità dell'errore l'eventualità dell'errore dal mio punto di vista è per carità presente ma l'errore umano probabilmente avviene in quantità maggiori il problema è anche che tanto più queste macchine saranno efficaci tanto più noi ci fideremo di loro e tanto più perderemo la capacità di fare da soli a me viene sempre in mente il fatto che io per esempio ma come tutti noi abbiamo 100 300 numeri selezionati in rubrica telefonica e non me ne ricordo a memoria quasi nessuno perché tanto so che c'è la mia rubrica allora se noi abbiamo un software che riconosce le formazioni tumorali e le sta di agnosticare è un'ottima cosa e probabilmente faranno meno errori di quanti ne possono fare i medici il problema è che però i medici disimpareranno c'è il rischio che disimparino a guardare le radiografie o a guardare i dati diagnostici i dati di laboratorio perché tanto appunto questi processi diagnostici sono affidati alle macchine quindi c'è un'enorme questione che è quella del continua esigenza di formazione e nuova formazione delle persone che usano le macchine che usano i sistemi di intelligenza artificiale cioè bisogna evitare che questa delega di funzioni comporti una perdita di competenze da parte dell'essere umano che è un problema molto consistente anche in termini per esempio di responsabilità questo per i giuristi è un grande tema chi è responsabile per l'errore è chiaro che appunto la macchina che guida da sola la Google Car che va in giro per Roma guidando da sola può andare a sbattere esattamente come posso andare a sbattere io questo è chiaro possiamo fare un errore probabilmente la macchina guiderà meglio di me perché non si distrae al telefonino non si distrae a guardare i cartelli pubblicitari non si distrae a guardare qualcuno che passa però poi quando succede quando c'è l'errore c'è il grande problema di chi è responsabile e questo pure è un grande tema quindi per me tenere insieme sempre l'intelligenza artificiale e l'umano è una priorità ed è una sfida che anche come giurista non è facile per niente grazie allora alla fine non è tanto la macchina che potrà superare l'uomo realmente ma quanto l'uomo delegherà di sé alla macchina che quindi l'abbinamento uomo-macchina forse appunto è quello che consente di mantenere un equilibrio tra la responsabilità e la capacità di azione perché anche la macchina non è infallibile da una parte è incoraggiante saperlo dall'altra assolutamente scoraggiante visto che in tanti casi ci dobbiamo affidare comunque alle macchine e tra le domande del nostro pubblico ce n'è una che chiede se l'intelligenza artificiale potrà aiutarci a risolvere i problemi importanti dell'umanità la guerra la fame la povertà voi da che lato prendereste sono ormai gli ultimi minuti l'ultima battuta per questa domandona che chiama molto in causa il modo in cui l'uomo utilizza l'intelligenza artificiale oppure l'intelligenza artificiale è fatta per risolvere passo passo questioni molto più basilari e quindi non deve occuparsi necessariamente delle grandi questioni appunto la guerra la fame la povertà che cosa non siate timidi io non so non ho davvero una risposta su questo io penso che questi problemi così grandi siano problemi radicati nella nostra antropologia di fondo diciamo così cioè detto in modo un po' più secco sono problemi che gli esseri umani si portano dietro da sempre e che devono risolvere loro cioè non appaltare la soluzione alle macchine posto questo mi immagino anche che lo sviluppo tecnologico potrà dare enormi chance per esempio nel lotto al cambiamento climatico per esempio nel lotto all'inquinamento cioè sono diciamo settori nei quali ecco mi sento di essere più ottimista certo se poi pensiamo che le macchine possano renderci più pacifici e quindi risolvere i problemi della guerra questo no purtroppo qua non sono tanto ottimista ecco grazie direi che abbiamo iniziato parlando di scenari da fantascienza in questo webinar facendo vedere un po' quello che sfugge all'essere umano nell'incontro con la macchina le nuove tecnologie eccetera per tornare di fatto a ribadire l'importanza che sia l'essere umano ad utilizzare in maniera responsabile la macchina non perdere mai il filo il controllo sulle macchine stesse e credo che adesso mi viene in mente una cosa che credo sia di Pascoli la scienza deve diventare coscienza non da adesso abbiamo avuto tutta l'era atomica per pensarlo e siamo arrivati tardi e qui forse potrebbe essere un'occasione per pensarci un po' prima ma fondamentalmente bisogna introiettare la scienza e la tecnologia dal punto di vista umano e questo dubito che qualsiasi meccanismo di decision making basato sull'artificial intelligence possa servire è un problema interno umano nostro dobbiamo trasformare la scienza in coscienza grazie detto detto dallo scienziato fa ancora più effetto nel senso lo scienziato non limitato alla procedura tecnica tecnologica scientifica matematica dell'uso della macchina io credo che i fisici io sono un fisico subnucleare io credo l'opinione personale credo che i fisici abbiano un peccato originale che è la costruzione della bomba atomica tanto è vero che ci sono tanti fisici che poi si sono impegnati per il disarmo nucleare e quindi forse i fisici sentono un po' questo peccato originale io spero che non siano gli informatici a fare la stessa cosa posso aggiungermi appunto si parlava di bomba atomica di realtà nucleare io stavo pensando un po' al Giappone in realtà Masahiro Mori è un ingegnere che si occupa di robotica giapponese ed è lui che dice che anche i robot possono avere la buddità quindi anche i robot possono diventare dei Buddha ed è una cosa che leggevo proprio l'altro giorno interessante vedere come in Giappone io sempre sono cresciuta da bambina con i cartoni animati giapponesi e i vari robot e i robot che sono stati ideati a livello di fantascienza in Giappone dagli anni 50 in poi sono tutti robot che non sono contro l'uomo ma lavorano per l'uomo o con l'uomo contro questo male che è rappresentato da varie cose mostre però è una intelligenza artificiale una robotica che aiuta l'uomo quindi è molto interessante vedere come in Giappone si sia poi creata questa idea che le macchine possono in realtà anche aiutare e forse anche per superare la paura quello che è successo con la bomba atomica ma certo come hanno detto un po' tutti è pensare all'uomo un uomo che deve educare la macchina i confuciani stanno scrivendo libri a riguardo come educarle al confucianesimo all'etica cosmica alla macchina ma una macchina che è ancora imperfetta io c'ho il mio robottino dietro lui in realtà è la versione robotica di un personaggio di un fumetto e appena quando hanno inventato il robot nel 2015 c'era questo fumetto in cui il personaggio del fumetto parlava con il suo omonimo robot e gli diceva ho tutti questi problemi e il robot gli dà la risposta perfetta dottrinale e l'altro si arrabbia gli fa ma scusa siamo tu sei il mio unico amico non hai un minimo di empatia di compassione e allora gli stacca la spina per farlo zittire e questo è un po' insomma un po' rappresentato il rapporto tra umano e macchina almeno come lo vedevano i creatori di questo monaco robot che parla pratica e insegna il dharma insegna anche la dottrina però è un po' limitato a livello di empatia sembra grazie io purtroppo ci dobbiamo salutare qui perché sono le sette e un quarto quindi siamo arrivati al tempo limite del nostro webinar voglio ringraziare i nostri relatori Gian Piero Siroli Stefania Travagnin Fabio Masciocce e voglio ringraziare tutti voi che ci avete seguito da casa mi scuso anche se non abbiamo potuto rispondere a tutte le domande in chat cercherò comunque di comunicarle ai nostri relatori e vi ringrazio ci vedremo poi il 13 gennaio per un webinar in inglese sul poeta Dante che è davvero un poeta universale vi ringrazio ancora sono contenta che al termine di questo webinar cercavamo l'intelligenza artificiale e abbiamo ritrovato l'essere umano e questo penso che sia almeno un buon risultato grazie e buonasera grazie grazie a voi grazie buona serata a tutti grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti